De Francesco Giocato corto, poi la verticalizzazione verso Seferi che prova a girarsi, trova in verticale ancora in delicato che con un splendido tocco sotto supera Calcaro e fa 5-0. Cala il pocherissimo prima della fine del primo tempo la Roma calcio a 8. E' anche qualche rischio, poi serve Cichella in verticale in delicato che apre benissimo il gioco dall'altra parte dove c'è Seferi. Va via Seferi, punta un avversario, rientra sul destro poi calcio, il pallone passa e termina sul fondo.